E poi a proposito di Servizio Sanitario Nazionale parliamo di ospedali. Come viene trattato il dolore all'interno degli ospedali? Di questo parliamo con il nostro ospite in studio di oggi che è il professore Andrea Fontanella. Buongiorno. Buongiorno a lei. Professore, direttore Dipartimento di Medicina Ospedale Fatebene Fratelli di Napoli e presidente del FADOI, la federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti. Noi, professore, abbiamo detto che parliamo del dolore. Come viene gestito il dolore negli ospedali? Allora, nel 2001 un accordo fra il Ministero della Sanità, le regioni e le province proprio sull'ospedale senza dolore. Nel 2008 una legge sul dolore. Ma adesso come sono entrate queste direttive all'interno degli ospedali? Come viene gestito il dolore? Proprio le disuguaglianze di cui lei parlava ha spinto la mia società, la società di cui sono presidente, a occuparsi di questo problema, specialmente da quando nel 2008 la registrazione del dolore e il suo trattamento sono diventate legge. Proprio perché la FADOI aveva già svolto, in occasione dell'evanazione della legge, una indagine epidemiologica in pratica sui propri ospedali per vedere come esso venisse rilevato. Trovando in realtà in quell'epoca, appunto intorno al 2008, delle diversità importanti, proprio a macchia di leopardo in questo senso su tutto il territorio nazionale. Non vi era un adeguato rilievo. Ecco, oltretutto, diciamo, come da direttiva dovrebbe esserci un comitato ospedale senza dolore con un referente della direzione sanitaria, degli specialisti, eccetera, e poi dovrebbe essere prevista la consegna ai pazienti di un'informativa anche sul dolore. Tutto questo accade? È accaduto negli ospedali? Per lo specchio che io ho della realtà italiana nazionale, sostanzialmente, tutti, non posso dire, ma quasi tutti hanno sicuramente una strutturazione che prevede un team dolore, che è polispecialistico, internista, anestesista e via dicendo. Questo è certamente una realtà che si è concretizzata. Per quel che riguarda l'informativa, abitualmente, certamente, in tutti gli ospedali, ai pazienti che si ricoverano viene fatto firmare un consenso informato sul trattamento dei dati, ma il dolore però non c'entra niente in questo. Il dolore non c'entra niente in questo, di fatti, non è che viene loro data un'informativa che caratterizzi questo, però certamente, fatto obbligo e viene rispettato in maniera, certamente non omogenea, e ancora non sufficiente, ma in una maniera molto più importante del passato, il rilievo dolore e la sua gradazione, perché quello che è spettante al paziente è che a tutti venga rilevato se il dolore c'è o non c'è, e se c'è, che venga anche graduato nella sua intensità e monitorato una volta sottoposto al trattamento. Senta, siccome dà l'impressione, talvolta, per alcune esperienze negli ospedali, non in tutte fortunatamente, però che quando il paziente chiama, magari dopo in un posto operatorio, poniamo, no? E chiede, ma io sto male, ho dei dolori, vengo un po' trattato come se fosse un po' lagnoso, poi sostanzialmente. Allora, quali sono i diritti del malato? Quali sono i diritti di una persona che è ricoverata rispetto al dolore, al non sentire dolore? I diritti che spettano al malato sono quelli che il suo dolore, ripeto, venga rilevato e venga trattato. Questo è fuori discussione. Uno dei grossi problemi è che la gestione del dolore, specialmente intanto nel posto operatorio, nel paziente oncologico, dove da sempre c'è stata una maggiore sensibilità e dove l'anestesista si occupa di questa gestione del dolore, certo, ci saranno sicuramente e comunque diseguaglianze in tutti i sensi, però nei reparti di medicina interna, dove il paziente è ultraottantenne spesso, è complesso, è polipatologico, è vasculopatico, la gestione del dolore richiede un'estrema attenzione e anche una grande perizia, perché ogni farmaco della gestione del dolore ha i suoi problemi nel paziente fragile, tant'è che la fadoica come due missioni principali, la formazione e la ricerca, che poi hanno tra di loro un approccio traslazionale, proprio per migliorare la qualità dell'assistenza, ha fatto uno studio che si chiama DOMINO, dolore in medicina interna no, che aveva questa finalità, valutare come venisse gestita, insegnare come deve essere trattato il dolore nei vari casi secondo l'arte e successivamente rivalutare quanto questo evento formativo avesse impattato nel migliorare l'assistenza. Benissimo, quindi diciamo che rispetto ai diritti del malato, il malato ha diritto a non sentire dolore o quantomeno al fatto che i medici si prendano cura di lui nel momento in cui dice io sento dolore, perché non è detto che dobbiamo soffrire, giusto? Assolutamente, anche perché se il Vecchio Testamento diceva donna partirai con dolore, poi il Vangelo successivamente vide proprio Cristo che disse se puoi allontanare da me questo calice. Grazie.